buongiorno salve buongiorno come si chiama ciccio orecchione bene signor ciccio ora lei sono trent'anni che studia in questo istituto ha qualche spiegazione in merito la prego risponda beh la maestra era molto carina a parte questo beh la menza è pure molto buona si mangiano i fagioli freschi freschi molto e per quanto riguarda il suo impegno quasi nullo direi anche perché non mi piace studiare questo l'avevamo capita bene può considerarsi espulso